Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi finalmente siamo su FNAF 2 ragazzi Finalmente, da un botto di tempo che me lo chiedete, in FNAF 1 eravamo arrivati alla sesta notte Non sono riuscito a superarla, quindi ho detto, sai che c'è, facciamo FNAF 2 Quindi, oggi, iniziamo FNAF 2, New Games Grande riapertura, porca troia, grandissima, 100 dollari settimana, non mi pagate niente Cioè, dalla scorsa pizzeria siete rimasti al verde, mi dicono 12M, prima notte Dai, vediamo come va questa prima notte ragazzi, vediamo, vediamo come va Allora, rispetto allo scorso gioco, ci sono tantissime migliorie Prima cosa, la batteria serve soltanto per una torcia che usiamo, vedete questa torcia che usiamo per illuminare, bom Poi, possiamo anche usarla qua per illuminare la porta qua davanti Poi, le luci sono un botto migliorate, porca miseria ragazzi, non devo più tenere premuto, basta che clicco e bom Si spegne in automatico Se avete visto, non ci sono le porte Cioè, non si possono chiudere, infatti c'è una maschera, se vedo un animatronico mi metto a volo la maschera Poi, un'altra novità interessante, è che in questa stanza c'è un carillon Quando questo carillon si scarica, io devo ricaricarlo, perché se non lo ricarico in tempo, compare un animatronico bastardo Che schifo ragazzi, poverino, mi dispiace un sacco per quello là Teoricamente dovrebbe essere anche un po' più semplice, da quello che ho capito Uh, povero Bonnie, poverissimo Dovrebbe essere molto più semplice rispetto a quello di prima Teoricamente, anche Freddy, ma si hanno fatto una brutta fine Rispetto a FNAF 1 Quindi, boh, vediamo come va, speriamo vada bene Quanto l'hanno fatta bello, Bonnie Anche i chica, gli animatronici li hanno fatti veramente molto belli Sì, sì Li hanno fatti abbastanza carini Prima erano orrendi, ora invece sono più belli Guarda Bonnie come è diventato bello Prima lo faccia altamente cagare Mi chiedo, ma Foxy c'è? Perché non la vedo, Foxy Forse non c'è Foxy Non lo so, ragazzi, perché io non ho mai giocato a FNAF 2 E mi sono informato un pochettino Ho letto anche i vostri commenti, però Non è che ne sappia tantissimo Ok, comunque il bastardo si è mosso Vediamo dov'è È qua? No? Qua? Dov'è il pezzo di merda? Eccolo, con la sua nuova chitarra Bastardo, quella chitarra gliela devo rompere in testa Uh, devo ricaricare, vedete? Devo ricaricare che se no Mi... Jumpscareva il pezzo di M Muoviti, ok, vediamo Dov'è finito Bonnie Dov'è scappato? Non è che ora mi jumpscare Questa paura voglia di stare jumpscare Uh, ciao Uh, cazzarola Penso che sia partita la bastardina Uh, eccola, eccola Mi dovrei mettere Ma non ha più il becco? Cazzo, dove è finito il suo becco? Mi dovrei mettere la maschera? Ho questa sensazione, sapete? Pensi proprio di sì Dai, quanto... Quanto devo stare con la maschera? Uh, chica? Chica, te ne puoi andare a fanculo, per favore? Chica? Te ne vai? Chica? Qua non si respira dentro la maschera, chica Uh, cazzo Devo anche fare il coso al... Devo anche ricaricare il... Come cazzo si chiama il... Muoviti Se no mi jumpscareva il bastardino qua Muoviti La rischiamo ragazzi, la rischiamo 3, 2, 1 Prepariamoci un jumpscare Oh, non è arrivato nessuno Alleluia Mazza, che culo che ho avuto, eh Qua c'è qualcuno? No? Uh, eccola Mazza, che brutta che è, chica Altro che l'hanno fatta bella È orrida Uh, è partito anche... Freddy? No, qua non posso più l'illuminare Ok Ricarichiamo Guardate che bello con il mini Freddy Uh Uh, eccola È lì la bastarda Oh, cazzarola Allora, facciamo una cosa Ricarichiamo un po' Uh, mettiti la maschera Muoviti Si sta avvicinando il bastardo Quel bastardo di Freddy si sta avvicinando qua a me Dai Dai, 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 dai Ancora Prima che arriva Il tipo della Del Corion Dai, muovetevi a passare Che poi esce il bro Siete ancora qua? Posso togliere la maschera? Ok, teoricamente Eh, lei c'è ancora Eh, vabbè, devo ricaricare, sentite Ricarica Muoviti Speriamo che non esci, chica È uscita chica No Sì Maschera Cazzo, al volo Al volo Ciao, Bonnie Al volo l'ho messa Meno male Finito il panico? Posso togliere? C'è qualcuno? No C'è qualcuno? No Meno male Qua? No, no Niente Ma più che bene Dove sono finiti? Dove è Freddy? Ah, Freddy è qua? Va bene, ancora lontano E ricarichiamo il Carion nel mentre Quinta notte Cioè, quinta notte Cin... Voilà Cinque del mattino Uh, eccolo Eccolo qua Oh, Sium L'abbiamo superata Sì, è stata una cagata Raga, la prima notte La prima notte è stata veramente una cagata Easy Facile Come non ne ho idea Una delle cose più facili Ragazzi, però per questo primo video di Five Nights at Freddy's 2 è tutto Noi ci vediamo ad un prossimo episodio Arrivederci a tutti, ragazzi Grazie